buongiorno a tutti amici nexus lab sono alessandro bertola e con un po di colpevole ritardo vi presentiamo la video recensione del galaxy tab 3 da 10.1 pollici di samsung uno dei tablet più interessanti che ci avete chiesto in tanti per quello l'abbiamo recuperato soprattutto perché in questo momento è uno dei tablet più convenienti da 10 pollici sul mercato quindi ci sembrava doveroso provarlo anche dopo qualche mese dalla sua uscita sul mercato italiano allora questa è la confezione confezione è ormai classica di samsung che presenta cartone con materiale riciclato queste sono tutte le varie pellicole che abbiamo del galaxy tab manualini di istruzioni carica batterie da viaggio e che condivide il cavo usb micro usb che tra l'altro sono sempre in abbinato al colore della confezione e del tablet scusate ok chiudiamo tutto tutto questo spazio in più invece è assolutamente vuoto è solo uno spazio aggiuntivo ok chiudiamo dopo andiamo adesso a prendere il galaxy tab come potete vedere è un tablet molto molto pulito a livello estetico veramente ben fatto esteticamente aggiunge il pulsante di sistema di samsung che anche su tablet da 10 pollici ha il suo senso anzi abbiamo apprezzato abbastanza nell'uso quotidiano a livello di dimensioni parliamo di un tablet piuttosto importante 243 x 176 x 7,9 mm di spessore è molto abbastanza sottile con materiali plastici direi policarbonato solito policarbonato di samsung con un peso anche qui abbastanza importante con un peso quindi di mezzo chilo e 510 grammi per la precisione esteticamente quindi simile alle linee estetiche del galaxy s4 ma che presenta qualche differenza sostanziale innanzitutto troviamo due altoparlanti stereo che ve ne parlerò meglio dopo uno e due eccolo qua e poi troviamo il jack da 3,5 posto sulla parte sinistra del tablet mentre la parte superiore questo è un tablet da con modulo telefoni e modulo scusate 3g integrato qua possiamo mettere la sim nella parte superiore micro sd bilanciere del volume tasto di accensione spegnimento blocco e sblocco parte posteriore invece troviamo la fotocamera senza flash led parte sotto microfono e connettore usb micro usb per la ricarica lo scambio dati eccetera eccetera davanti anche qua piuttosto classico tasto di sistema e di sblocco di samsung tasto menu e tasto indietro come siamo ormai abituati da tempo andiamo a sbloccarlo intanto vi illustro più o meno le caratteristiche tecniche andiamo a sbloccarlo eccolo qui eccolo qua questo è il nostro tablet interfaccia classica non troviamo la nuova interfaccia magazine di samsung che non è ancora arrivata su questo dispositivo speriamo che arrivi a livello tecnico secondo me è possibile che arrivi a livello commerciale e qua dipende tutto da samsung abbiamo quindi un processore dual core da 1.6 gigahertz proprietario un gigabyte di ram storage 16 32 giga dipende dalla versione con un display da 10.1 pollici lcd con una risoluzione non altissima 1280 per 800 pixel con una densità in ppi di 150 ppi circa quindi i pixel si vedono non so se potete con la videocamera vedere che comunque la retina di pixel si vede però abbiamo già un numero abbastanza sufficiente certo almeno un full hd sarebbe stato meglio andiamo adesso ad analizzare android android come potete vedere è stato modificato da samsung come al solito la tendina giustamente samsung inserisce questa tendina a tutto schermo non quelle tendine piccoline che in effetti hanno poco senso di esistere tendina a tutto schermo che ci consente un'enormità di opzioni essendo il display più grande non dobbiamo scorrerle la gestione della luminosità del display e tutte le nostre solite notifiche andiamo adesso nelle impostazioni impostazioni volevo farvi vedere le informazioni sul dispositivo andiamo ancora purtroppo android 4.2.2 purtroppo lo diciamo con senso abbastanza critico speriamo che android kitkat possa arrivare che si salti a pie pari android 4.3 che non porterebbe chissà quali migliorie detto questo comunque il tablet è fluidissimo quindi critiche anche abbastanza sterile da questo punto di vista perché in effetti il tablet pur non avendo un hardware dei più spinti grazie anche alla risoluzione limitata gira comunque benissimo come potete vedere niente da criticare abbiamo anche la possibilità telefonica come potete vedere abbiamo la ricerca in rubrica certo non è comodo non abbiamo la capsula ma utilizzando un auricolare magari bluetooth possiamo utilizzarlo addirittura come megatelefono questo è assolutamente consentito abbiamo la possibilità di utilizzare il dispositivo come telecomando dato che vediamo qua sopra la porta infrarossi cosa che anche in questo caso non è tra le più comode essendo un dispositivo piuttosto importante come dimensioni immaginiamo che tenerselo sul divano sempre a portata non sia il massimo Samsung aggiunge tutte le sue applicazioni ma prima di parlarvi delle sue applicazioni volevo farvi provare un attimino il browser il browser lo usiamo quello stock non chrome è presente già chrome anche preinstallato ma viene evidenziato soprattutto questo tipo di browser nella doc andiamo a navigare un attimo su Nexus Lab come potete vedere avendo un tema adattivo il nostro sito si adatta automaticamente alla navigazione come potete vedere si vede molto bene si adatta dinamicamente alla dimensione di display che comunque è da 10 pollici è una risoluzione anche abbastanza alta quindi viene visualizzato come quasi fossimo al computer navigazione che ha degli alti e dei bassi nel senso che abbiamo notato che lo scroll non è proprio fantastico come potete vedere se lanciamo il dito non lo recepisce più di tanto se invece lo accompagniamo con calma il sito viene percepito purtroppo questo è un piccolo difetto che abbiamo notato su diversi siti soprattutto quelli con temi adattivi mentre su altri siti meno nuovi in questo momento mi viene in mente forse Yahoo su Yahoo per esempio abbiamo notato meno problemi proviamo per esempio andare su yahoo.com allora come potete vedere il problema c'è è molto meno il sito è molto leggero presenta meno animazioni è un tema molto meno adattivo rispetto al nostro questa cosa purtroppo si ripercuota un po' sulla qualità della navigazione che va un po' rivista con Chrome il problema si presenta estremamente molto ma molto meno volevo farvi vedere un attimo la possibilità di scrivere anche qua messaggi di testo componiamo un messaggio tastiera molto grande si scrive assolutamente meglio con la tastiera col tablet appoggiato su un piano tastiera piuttosto classica non mi fanno impazzire i numeri leggermente più stretti capita per chi non è abituato di sbagliare ogni tanto magari andare più sopra per esempio selezionare ciao in questo caso come potete vedere si scrive assolutamente veloce possibilità di muoversi e di correggere in maniera abbastanza rapida senza nessun problema tenendo premuto il tasto normale di sistema come potete vedere entriamo nel multitasking possibilità di chiudere di gestire le attività o di avere una scorciatoia a Google troviamo anche altre funzioni come gruppo play per condividere contenuti multimediali direttamente con altri galaxy ma è tutta un'altra serie di personalizzazioni troviamo Flipboard che non è un'applicazione di Samsung proprietaria ma è un'applicazione che comunque troviamo in praticamente tutti i Samsung fotocamera allora vi dico subito che la fotocamera non ci troviamo di fronte a una fotocamera a 3 megapixel e si vede fotocamera a 3 megapixel proviamo a fare una foto come potete vedere molto sgranata foto molto da vicino non abbiamo neanche l'autofocus c'è da dire che siamo di fronte a un tablet quindi quindi purtroppo troviamo questi limiti però troviamo tutta una serie di funzioni tipo la funzione cheese che ci consente di scattare quando noi diciamo cheese riproviamo cheese cheese prima ha funzionato è inutile stare a insistere poi troviamo qualche effetto non tantissimi qualche scena panorama condivisione a foto con amici modalità sorriso cambio di foto esposizione e tutte le opzioni presenti comunque fotocamera come vi dicevo piuttosto limitata i video ancora di più da questo punto di vista ma naturalmente ci troviamo di fronte a un tablet è già buono che ci sia la fotocamera come detto troviamo numerose applicazioni album foto per chi non ha la conoscenza ci consente di di comporre le nostre foto e di creare degli veri album fotografici group play ve l'ho già spiegata prima paper artist ci consente di disegnare purtroppo abbiamo appena rifatto il reset del tablet e deve un attimo riscaricarla eccola qua facciamo un disegno ad acquarello come potete vedere adesso lo stiamo più che altro editando possiamo editare le nostre foto e possiamo fare tutto un determinato numero di opzioni polaris office in versione free che ci consente di editare qualche testo learning hub sono comunque tutti hub come il video hub e il music hub che ci consente di scaricare contenuti aggiuntivi e se voice lo proviamo un attimo confermiamo ok accettiamo avanti come detto purtroppo l'abbiamo un attimo ok ciao galaxy ci ha un piacere di conoscerti nuovo evento domani alle ore 12 pranzo di lavoro ciao galaxy nuovo evento pranzo di lavoro domani alle 13 ecco il suo appuntamento lo devo salvare salva salva ok l'aveva preso salvando l'appuntamento come potete vedere funziona piuttosto bene anche se ha ancora qualche limite se voice di samsung volevo passare alla parte multimediale perché ci sono comunque parti che hanno i loro picchi a livello qualitativo allora i nostri soliti due video partiamo con l'avi l'attore video di samsung e vi alzo il volume purtroppo come potete vedere l'avi non si vede con il lettore samsung mentre con l'altro lettore abbiamo difficoltà allora ho provato difficoltà che comunque sono più di lentezza volevo farvi vedere che al secondo accesso dovrebbe a volte abbiamo visto qualche immagine non so se prima l'avete colta purtroppo ha un problema proprio con gli avi adesso in uscita l'avete visto per esempio scaricando mx player il problema si risolve totalmente questo è un mp4 quindi non un avi lettore video di samsung questo invece dovrebbe vedersi abbiamo qualche problema eccolo qui abbiamo attivato la funzione pip volevo solo capire come mai non riuscivamo a farvelo vedere un attimino solo naturalmente è attiva anche la funzione di riconoscimento del volto quindi se lui non vede la fotocamera non ci vede probabilmente gli da fastidio disattiviamo un attimo questa modalità stand by intelligente eccolo qui ritorniamo non vorrei che gli desse fastidio purtroppo no purtroppo no purtroppo gli da non riusciamo a farvi vedere il video cosa molto strana problema di diretta fotocamera la puntata precedente devo aprire mp4 scusate foto niente da fare abbiamo qualche problema di memoria l'abbiamo appena aggiornata non vorrei che avesse qualche problema prima siamo riusciti senza particolare difficoltà a visualizzare un video ora purtroppo invece fa alquanto fatica anche perché è strano che funzioni nella modalità pip picture in picture e invece abbia delle difficoltà in altro senso proviamo a cancellare tutte le applicazioni così vedete anche in qualche modo i problemi che si presentano sul tablet magari non è neanche giusto saltare a più e pari i problemi e magari tagliare questo pezzo perché comunque sono problemi che si potrebbero presentare ed è ingiusto ometterli allora andiamo nella galleria andiamo nei download potete vedere a volte il processore fa un po' fatica in alcune operazioni allora a livello di interfaccia non più di tanto a livello di gestione multimediale purtroppo troviamo qualche blocco direi di farlo un attimo riposare e andiamo nel lettore musicale intanto che lui ci pensa allora abbiamo il play music che possiamo usare anche come lettore musicale apriamo un secondo utilizzo standard ok ok la mia raccolta ok andiamo a prendere il nostro solito Shakira Shakira eccola qua Shakira abbiamo ce l'abbiamo già anche in locale senza stare ad ascoltarlo in streaming allora l'audio ha due apposti uno parte negativa non è altissimo parte positiva è posizionale un ottimo posizionale grazie alle due casse stereo si fa valere purtroppo non è tra i più forti tablet samsung da questo punto di vista ci tengo a riprovare la galleria in modo da farvi vedere qualcosa di video anche se non sembra volerne sapere guardiamo un video su youtube a questo punto sperando che il tablet ci accompagni entriamo col nostro profilo ok vediamo un bel trailer nuovo ok così questo nessun problema questo è il più grande progresso della fisica moderna la fissione dell'atomo un metallo raro molecolarmente instabile sono fatti di questo vai così su vieni ok dopo aver visto qualche secondo del nuovo film di transforme che magari tutti i fan l'avranno già visto che dire display che è piuttosto luminoso anche se non è non è un IPS però abbastanza luminoso aumentando la luminosità come avrete visto si evidenzia un po' la risoluzione un po' bassa anche nel video il video non ha neri profondissimi non è un AMOLED non è neanche non ha dei colori neanche vivacissimi però si difende bene naturalmente questo tablet con modulo 3G integrato si difende bene soprattutto grazie a un rapporto qualità prezzo molto buono ha delle app che sono praticamente in esclusiva per Samsung adesso non mi ricordo bene se sia premium play che sky go sono esclusive o solo una delle due in più infinity dovrebbe essere anche qua in parte esclusiva per Samsung quindi questi sono tutti i valori aggiunti che su un tablet da basso costo basso costo comunque siamo su dai 250 ai 300 euro può fare può far mercato che dire Samsung mi ha convinto con questo tablet soprattutto per il prezzo anche se abbiamo qualche difetto nella navigazione nella velocità di esecuzione di alcune operazioni come avete avuto modo di vedere con me direttamente in questa prova c'è stato un problema nella gestione della memoria del dispositivo nella gestione dell'interfaccia cosa che si presentano in modo saltuario non sempre magari un riavvio un ributto del tablet risolve la situazione ma possono dare comunque dei problemi speriamo che con la quarta generazione di tablet vengano migliorati un po' tutti gli aspetti tecnici per ora questo è un acquisto che rimane comunque abbastanza consigliato un saluto da Alessandro per Nexus Lab per l'interfaccia per l'interfaccia di